La condanna al carcere a vita più tre anni di isolamento diurno è stata chiesta dai PM Alessio Coccioli e Remo Epifani per il 65enne Giovanni di Napoli detto Nino il Calabrese, già condannato in passato per mafia, ai giudici della Corte d'Assise di Taranto nell'ambito del processo legato al triplice omicidio di Palagiano, consumatosi la sera del 17 marzo 2014 lungo la strada statale 106 del quale di Napoli, arrestato dai carabinieri un anno dopo il massacro, è ritenuto il mandante. Nel feroce agguato furono trucidati a colpi d'arma da fuoco Cosimo Orlando, la sua compagna Carla Maria Fornari e il figlio di lei Domenico Petruzzelli di poco più di due anni, mentre si salvarono i suoi due fratellini che erano sul sedile posteriore dell'auto. La donna stava riaccompagnando in carcere Mimmo Orlando in regime di semilibertà essendo stato condannato in maniera definitiva per un duplice omicidio quando il commando entrò in azione trucidandoli. Il piccolo Domenico si trovava in braccia d'Orlando. Dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Lecce è scaturito che il movente era legato ad un regolamento di conti per contrasti personali tra Di Napoli e Orlando. Quest'ultimo avrebbe offeso e schiaffeggiato Nino il calabrese in un bar firmando la sua condanna a morte. L'accusa inoltre ha chiesto quattro anni di reclusione per Giuseppe Ruffano, imputato per il furto in concorso con Di Napoli, dell'auto, una Opel Astra, utilizzata come mezzo di copertura la notte della strage. Antonio Valente e Antonio Daraio, entrambi residenti a Palagiano, sono accusati di favoreggiamento personale nei confronti di Di Napoli. Gli esecutori materiali della strage sono ancora ricercati. Ieri hanno discusso anche gli avvocati di parte civile costituitisi in giudizio per i genitori di Carla Fornari e i bambini sopravvissuti.